Ciao a tutti, noi siamo Angelica e Linda, due studentesse dell'Istituto Pansini di Senigallia. Nel corso dell'anno scolastico ci occupiamo anche di organizzare tour e visite guidate per scoprire il territorio di Senigallia. L'AHT, che si terrà dal 17 al 22 ottobre, porterà qui al Pansini gli studenti e gli alberghieri di tutta Europa per le competizioni enogastronomiche. Abbiamo organizzato dei tour a piedi e in bicicletta alla scoperta del territorio. Vi aspettiamo!